per arrivare alla live speriamo ti prego ti prego ti prego perfetto ora chiamiamo a tarantula raga se non entrate in ts vi sparo giuro ora dovrebbe essere molto meglio perché mi stava dando un pochettino fastidio poco poco eh non dico tantissimo poco poco allora andiamo su la nostra andiamo in questa cartella e andiamo su attaccomitantributegay no no scherzavo minecraft perchè non mi fa giocare a quel gioco cioè non non capisco caricamento in corte cosa vuol dire non lo so cioè giuro non lo so che vuol dire non so a che cosa si stia riferendo quindi facciamo perdere che è meglio cioè è meglio man alright 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 questo forse è meglio tenerlo così poi lo sistemi un po' così si comunque raga in una live mi hanno dato il copyright quindi cioè in una canzone che tutti ascoltano cioè raga rendetevi conto è una canzone che ascoltano tutti e mettono tutti e mettono tutti nelle loro nei loro video quindi come è possibile non lo so quindi mi hanno dato il copyright di questo ehm direi di cambiare canzone andiamo qua e facciamo spottano no no andiamo qua invece tac e andiamo da questa parte bam non l'avete visto ehm bello questo questo qua che fortuna che avevo delle canzoni non copyright no no porca no non si deve vedere ehm ehm raga siete pronti per il drop ehm le orecchie direi mettiamolo al 70% forse un po' più alto e basso direi perfetto così può andare yeah mi piace queste canzoni anzi mi piacciono queste canzoni se qui mi fo entrore cro ro ro ok aggiorna aggiorniamo e andiamo su mainflex quei brutti maledetti cattivi rimonelli entro e qua troppo speriamo non mi rispondo speriamo mi rispondo più che altro ehm 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 bene raga partitozza così random come and fly to where come and fly to where with me come and fly to where with me perchè non lo fa ok allora io direi intanto innanzitutto un po' di blocchi così randomissimi per proteggere il nostro letto abbiamo solo la hull la hull quindi no si questa canzone mi piace troppo yeah perché mi dici di cliccarlo cioè ah ok la simmetria è mia amica no 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 brutto no ne ho cotte no no nulla no no riesco a piccarlo dai no 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 ti prego per favore per favore per favore non mi distruggi il letto se mi distruggi il letto quitto giuro dov'è figlio del figlio prodico no quitto quitto sono pronto perfetto sono pronto perfetto perfetto no raga no raga no raga non ci possiamo giocare così c'è è brutto tra l'altro abbassiamo il volume perché mi dà fastidio ma di di tantissimo dovrebbe andare bene se entrano però se entrano dai però dai dai raga andiamo un po' su andiamo un po' su paladins nel frattempo chiamiamo lorex lol potete sentirlo anche voi se dice qualche cosa che ci fa lì paladins non lo so e non me lo chiedete per favore cioè paladins lo apre il problema è che devono ancora scaricarlo i miei amici scoprirsi disconnected sorry per favore sorry per favore sorry abbassiamo un po' ma è arrivo sì io sono qua è arrivo ancora non l'ho non l'ho finito cioè sto sto facendo sto facendo la live però non cioè sto giocando a paladins è l'unico gioco che raga oh finalmente lorex è prima forse effetti musica eccolo qua applica e possiamo andare a giocare ah champions sarebbero i campioni tra virgolette e hanno ognuno il proprio nome c'è il proprio nome in versione animata cioè come si dice ognuno ognuno pronuncia il proprio nome allora raga ho provato un po' di tutto ma il più forte credo sia lui perché sono abituato a a giocare con 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 cioè sono abituato a giocare con le armi e quindi questo qua è l'unico penso sì l'unico che abbia un un'arma tipo no mitraglietta però un fucile queste cose così è l'unico poi ci sono quelli col cecco e ho fatto giusto giusto due screen tattici io ho incontrato vegas sul server di lion e ho fatto giusto giusto due screen tattici no ma mi raccomando non venire tutto ok non ti preoccupare non non ti non non aspetto questa partita di paladins da giorni no perché vi dovevo dire questa cosa praticamente questo ignorante qua praticamente gli ho detto l'ora che fa giochi lui mi fa sì il tempo che finisco un esercizio non mi ricordo che cos'era gli ho detto va bene vai ehm era 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 su se era tardi sul non mi ricordo forse erano le dodici non mi ricordo non mi ricordo forse mezzanotte luna non me lo ricordo ehm e ho aspettato fino alle due raga ho aspettato fino alle due ho detto vai a fare in culo perché ovviamente quando dice ehm sto arrivando ci sto due secondi il tempo che faccio un esercizio oppure qualche altra stronzata no raga no ve lo dico non cioè è come se gli hai detto no non come se gli hai detto no no non ci sono cioè è assurdo io non riesco a capire come cacchio fa boh le comunque ragazzi le promesse si mantengono mi raccomando mantenete sempre le promesse soprattutto quando quando dite a un vostro amico di voler giocare però io ancora devo capire oggi come è tenuto l'asso lol te la racconto io che cosa è successo praticamente io stavo camminando con i miei compagni arriva arriva Alfio con la sua bicicletta non è che stava facendo attraversare dei ragazzi lui ti ha detto una stronzata l'ho visto io non stava facendo attraversare nessuno lui direttamente è andato tutto veloce veloce e quindi è andato a sbattere con la macchina capito no i freni gli funzionano quindi non ha proprio frenato è diversa la cosa ha sbattuto e basta quindi è questa la cosa ha sbattuto contro questo qua e quello gli ha detto com'è tutto bene si sono messi a parlare quindi non li ho capiti raga mi raccomando prendete sempre ma dico sempre vittor perché vittor è il migliore è uno dei migliori no dai non abbiamo nessuno dei due non abbiamo né difese né supporto dai per favore raga dai vabbè che siamo cioè abbiamo solo attacco solo attacco che cosa la com'è ah vabbè ha cambiato questo supporto vabbè perfetto no no la difesa non supporto vabbè sempre meglio di niente rara sempre sempre meglio di loro però hanno tutto difesa supporto hanno pip pip non è una pippa raga ascoltate i pip non è una pippa se voi se vi spunta pip è forte cioè non dico straforte ma è forte è forte raga si ma guardate qua noi abbiamo soltanto uno solo io e questa qua che abbiamo uno e due gli altri hanno tre quattro cinque tre uno mamma che brutto forse era meglio zin che io mi sono preso tutto con zin cioè ovviamente ho sbloccato completamente tutto quanto di zin quasi tutto mi mancano giusto un paio di carte ma quelle là ancora non ho capito come utilizzarle spiegatemelo voi perché io non non l'ho capito giuro let's get this done let's get this done perfetto equipaggia ok ora facciamo così e andiamo di qua mettiamo su bookmarks entriamo nel nel server connecting tab connected esatto e per lei non avevo channel switched prepare for battle channel switched perfectly disconnected no mi sono disconnesso dal mio server microphone muted va bene mi sono mutato faccio una cosa bookmarks il mio server connetto il mio tab loco il mio server connetto il mio tab così channel switched perfetto raga 5 4 3 2 1 1 1 ma già hanno catturato che brutto non so se voi vedete che sta laggando oppure no perché in questo momento a me sta laggando ok sono riuscito a prenderlo grazie for the healing quello è quello è coso non mi ricordo come si chiama mai over time double kill enemy killing spree stop no mi sa che ma sono morto esatto sono morto vabbè le mie sporche kill le ho fatte però skipiamo vediamo ecco questa qua dicevo che è col cecchino sì eccoci qua di nuovo scusate se lagga non penso la sì lagga invece ma purtroppo questo è il gioco no ma non hanno preso l'ora che brutto non cammina non cammina no dove era non si può fare non si può non si può più streamare cioè non posso più streamare con il monitor cambiato non posso più streamare cioè io posso farvelo rivedere che qui apro la cartella giochi giusto vado a prendere piercing blow come vedete qua si sta aprendo sì cioè l'unico modo è giocare a minecraft e basta porco è due è pazzesco e col cambio del monitor è successo questo è successo ok e qua ci siamo il problema è quando si apre quando si apre piercing blow mi si apre cioè che da questa parte questa spunta proprio questa parte invece tutto questo tutto questo spunta solo piercing blow quindi ho un praticamente questa parte così cioè così vedo il monitor il mio desktop oppure vedo tutto nero non lo so se vedo il mio desktop perché l'ultima volta vedevo questo qua questa parte qua fino a qua o fino a qua non mi ricordo comunque è brutto è brutto raga non riesco più a fare nulla con questo con questo monitor io più che altro l'avevo preso perché l'altro monitor faceva schifo che per accendere per entrare in un in un coso ci stavo mezzo mezzo anno per dire perché dovevo cliccare sempre il tastino menu e mi andava a salvare il programma ecco e crash continuo perché me lo fa così continuo ok ok e ti doi raga mi si è proprio cioè è crashato è crashato e basta abbiamo steam vediamo un po' speriamoci boh non so che dire murder miners non me lo fa aprire paladins ho fatto un achievement ma così randall browall vabbè simbolo vabbè e robocraft vabbè shalve non mi fanno di giocare perché anche anche così normalmente se ci gioco senza senza streammare mi fa queste cose quindi dovrei streammare solo due amici in là nostri amici che attra 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 Grazie a tutti Cosa è? No, non mi piace No, questo mi laggherà di brutto Giù, cioè già lo so, mi laggherà di brutto questo Vediamo, vediamo, no, giochi Free to play Perfetto, solo questi sono Ah no, ce ne sono ancora, ecco, perché Allora, allora, no Che cosa è che cotto, no Ma Diciamo di sì e diciamo Cos'è, no, questo è bellissimo Drone simulator No, che figo No, vabbè, che figo No, bellissimo Però il problema è che non lo posso scaricare Un gioco del genere, perché è inutile Amore on Amore on E questo si chiama Amore on Ho capito Capisco tutto Carrier Ehm, va bene Che cos'è No, no Non mi piace Un gioco, voglio un gioco che mi spiri Un gioco ma bello però Che cos'è Che bello però serve il VR Io non ce l'ho Yeah Yeah Andiamo altri free to play Free to play, free to play, free to play Cos'è? Cos'è? Un gioco di Trump Ma che Che Cosa Che cosa mi stai dicendo mai nella vita? Ma cos'è? No, lo voglio È mio Lo voglio Scusate Lo voglio Lo voglio Lo voglio Mio, 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 mio Basta Che proprio avviaggio Così Così Sì Dai, dai, dai Ok Dai No Allora intanto Quello di Donald Trump Ok Vediamo se ci sono Questi hanno Una bella copertina Però non la grande Non si deve Black Squad Non nella coppia di Black Ops Assolutamente Ma in italiano anche Non sopportare Ovviamente Ma Ma ovviamente Belle per osservarmi Un saltino glielo farei, dai Black Squad Avvia gioco Vediamo Tre ore Quanto? Omg Accetto Tre ore What? Omg Omg Veramente Ovviamente Un bello Questo per Un gioco di pesca Simulator No però Mi lagga Anche se è un gioco di pesca Penso Cioè Secondo me Mi laggerà Sicuro Quasi Così sicuro No Blitz No Non penso Assolutamente no Questi giochi Non mi piacciono Così Non mi piacciono Così Così Ci sembra LoL da lontano Cioè Da così Sembra LoL Guarda qua Guarda qua Guarda qua User left your channel Disconnected Disconnected Sì ma Dove c'è Qua era la zona No Ho capito No E' sicurato Che l'ha raccontato Nel tempo Che l'ho Ho perso Luce E' raccontato Che L'ho Ha raccontato Luce Sì Però L'ho capito Che c'è Però Pensavo Che non c'è Ci fosse Cosa Sfatti Ti prego No Ho sbagliato Ho sbagliato No Ho sbagliato Chiudi 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 No No Chiudi No Non voglio Vederlo No Non posso Non posso Vedermi Lì Cazzo Cazzarola Dai Porca Della Porca Ok Fammelo Da questa Qua Qui Bravo Uno Fantastic Di schermo Grande Grande Scusate Scusate Raga Per questi Due Così Qua Ma Il gioco è così E basta Raga Se dobbiamo giocare Su Su PB Io non posso Non me lo fa dire Mi sta dando Problemi Di poche Crash A Ciò Non posso Gostri Sì SDI Mi Dab Sì Sì B leveraging Si All chifo anzi muto proprio muto zitto ok vediamo questo gioco di donald trump fight oh qua devo lottare bello siamo alla casa bianca ok allora con Wast si muove con Wast se me lo fa fare select fight l'unico è quello livello 1 battle giugno 16 giugno del 2015 ok battle 1 fight c'è il simbolo di youtuber dorato però come il golden battle ok si si sicuro ti sento sicuro ma che cazzo no attacca attacca jump come attacca jump non ho capito non ho capito non ho capito ammissato grazie non ho capito fake ah ma ma tirato ma tirato una falsa notizia che cosa no vabbè ce l'ho fatta no ho sbagliato no ho sbagliato forse mi so non penso bam bam se non mi tirare false notizie no pulse negative che sarebbe tipo no vabbè ma è bellissimo sto gioco items chicken giusto e io perdo tre giorni per mangiare il pollo giusto bellissimo lol se false notizie no no non mi tirare false notizie no è bellissimo sto gioco raga troppo troppo bello troppo quanto è figo io che lo so 1 2 3 maledetto tu allora un altro colpo bam bam rimaniamo così che schifo perdiamo sicuro non è così po' hai rotto le palle non posso mangiare più chicken benissimo proprio benissimo wow certo certo sì no ho sbagliato ho sbagliato no 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 però no non è vero non è vero sono morto sono morto raga sono morto ha missato benissimo meno 2 per me grande fallo missare fallo missare fa missa 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 sto toco ma perchè non riesco cioè lui può missare io no perchè no porca no va va al cuore che brutto gioco no è brutto gioco che brutto sono morto schifo 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 salta qualcosa l'ho missato serious no ma si può missare allora è giusto che si poteva missare è vero ok pronti 3 1 2 3 no missa 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 ora dovrei devo missare per forza bam perfetto vai 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 l'importante è che mi sono missa 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 porca quella porca sono morto non ce l'ha fatta niente raga non ce l'abbiamo fatta game over lol ma questo gioco è stupido voglio portarci un video un video è vivo un video non una live un video se riesco sempre vediamo black squad avvia appena è pronto quindi ancora no perfetto direi di giocare lo so raga lo so che lo direte ma è l'unica cosa 3 2 1 scusate raga ma è l'unica cosa che posso giocare cioè in questo momento non mi fa giocare manco a piercing blow cioè rendetevi conto del del degrado proprio il degrado quante è che è durata 38 minuti una live ma facciamo una cosa dai stacchiamo chiudi programma facciamo nulla ok raga se questa brevissima ma dico brevissima perché non ho potuto fare nulla brevissima live vi è piaciuta mettete un like mi raccomando e andate nel mio profilo ts che è messo sotto se questa live vi è piaciuta mettete like in tal caso mettete dislike cioè li accetto i dislike non è vero non li accetto se mettete dislike vi banno dal canale giuro e mi raccomando fate i bravi commentate condividete questo video se vi è piaciuto fatemi fare le views anche se non prendo il video anche se non prendo il video sorry pure pure nell'auto mi interrompono e quindi dicevo mettete like se questo video vi è piaciuto dislike se non vi è piaciuto non li accetto io sto dicendo che lo potete mettere ma non li accetto vi banno dal canale in tal caso e ragazzi ci vediamo a una prossima live forse un prossimo video credo vabbè bene io direi che al drop ci salutiamo ciao 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 ciao